La rotta balcanica è iniziata in realtà molti anni prima che si parlasse di rotta balcanica con numeri significativi a partire dalla fine degli anni 2000 con alcune di migliaia di persone nel 2009 ne erano state registrate circa 3.000 numeri naturalmente molto lontani da quelli del 2015, quasi 800.000 e dei primi mesi del 2016. È stata chiusa ufficialmente l'8 marzo a mezzanotte modificando completamente la situazione del passaggio delle persone nella regione anche se dobbiamo dire che la situazione nei Balcani cambiava spesso anche nei mesi precedenti come quando i governi della regione sceglievano arbitrariamente quali nazionalità potevano passare e quali no oppure quando venivano eretti muri come quello ungherese, molto prima quello bulgaro cioè quando si costruisce un muro il flusso non si interrompe ma si sposta e aumenta naturalmente il ricorso alla criminalità organizzata per ricercare nuove vie almeno questa è stata la nostra esperienza in questi mesi, in questo anno di monitoraggio della rotta. La criminalità organizzata come sapete ha gestito una sorta di appalto per il trasporto dei migranti dalle coste turche all'isola di Lesbos e ad altre isole greche con volumi economici enormi, possiamo ipotizzare oltre un miliardo di euro di ricavo per la criminalità organizzata turca, per un investimento a costo zero e anche a rischio zero infatti come sapete la mafia non sono mai saliti i trafficanti sui gommoni facevano semplicemente vedere ai migranti come funzionava il motore indicavano la destinazione e guidavano eventualmente dalla distanza con i telefonini spiegando appunto all'improvvisato guidatore in che direzione dirigersi. Quella che definiamo oggi la chiusura della rotta balcanica prende di fatto la forma di un nuovo muro questa volta al valico di Domeni dove restano bloccate oggi oltre 10.000 persone di cui moltissimi bambini, secondo le stime appunto circa il 40% sono minori di quelli che sono bloccati oggi ai Domeni. Ora che la rotta balcanica è chiusa c'è dunque da prevedere un incremento nelle attività della criminalità organizzata nei paesi balcanici anche se con numeri almeno per il momento inferiori a quelli dei mesi scorsi perché è diminuito il transito appunto delle persone dalla Turchia. Un secondo aspetto introduttivo che secondo me è utile ribadire è che questa che si è materializzata sulla rotta balcanica più che una crisi dei rifugiati è stata ed è una crisi europea una crisi politica, morale, una crisi senza precedenti del progetto dell'Unione che ha proiettato e tuttora proietta un'immagine di decadenza di quello che una volta era appunto il sogno di un'Europa unita. Mi hanno chiesto appunto per questo intervento di cercare di specificare quanto le decisioni dei paesi dei Balcani di chiudere i confini sono state influenzate dall'Unione per quanto credo non sono state influenzate per nulla nel senso che la Commissione europea non è riuscita in questi mesi ad avere alcuna influenza neppure sulle politiche dei paesi membri figuriamoci su quelli appunto fuori. La storia della rotta balcanica, l'apertura, la chiusura, è una storia di soluzioni nazionali o di tentativi di soluzione nazionale di rapporti bilaterali o eventualmente multilaterali senza apporti da parte europea. All'inizio ci sono state le dichiarazioni di apertura di Angela Merkel della fine estate del 2015, alla fine le dichiarazioni del ministro degli esteri austriaco Kurz sulla chiusura della rotta dopo alcuni incontri tra Austria e i paesi dei Balcani senza la Grecia sulla quale è stato scaricato appunto il peso della gestione della crisi una volta deciso di chiudere la rotta al valico di Domeni. Lo scandalo dell'accordo tra Bruxelles e Ancara arriva dopo, cioè il 18 marzo, e può essere letto in un certo senso anche questo come un ulteriore segnale di decadenza, cioè di demolizione delle regole che governano il processo di integrazione europeo, dato che il governo di Ancara riesce con un ricatto di fatto ottenere la riapertura dei capitoli negoziali e la cancellazione dei visti per i propri cittadini oltre ad alcuni miliardi di aiuti per interrompere il passaggio delle persone e accettare appunto coloro che vengono illegalmente deportati dai paesi dell'Unione. Però volevo sottolineare un aspetto positivo in questa crisi europea che è stata la mobilitazione e la presenza su tutta la rotta balcanica di una società civile europea, centinaia, forse io ne ho incontrate centinaia, forse migliaia di persone da moltissimi paesi, dalla Repubblica Ceca alla Serbia alla Svizzera, che in molti casi hanno supplito alle inefficienze o all'assenza delle istituzioni internazionali. Ecco, contro questa mobilitazione della società civile stiamo verificando l'intensificarsi dell'utilizzo dei cosiddetti reatti di solidarietà in diversi paesi, dalla Croazia alla Grecia alla Danimarca. In Croazia, ad esempio, in questo momento sono in discussione dei cambiamenti alla legge sugli stranieri che criminalizzano atti di solidarietà, cioè qualsiasi azione di aiuto a stranieri che siano presenti sul territorio croato senza un valido titolo. In Grecia sono stati arrestati, già alcuni mesi fa, a gennaio, alcuni membri del Professional Emergency Aid, cioè un'organizzazione non governativa di aiuto ai migranti. Nel mese di febbraio e di marzo, ai volontari presenti ai domeni, soprattutto è successo a quelli di Aid Delivery Mission, che è un'organizzazione autogestita che è riuscita in questi mesi a dare migliaia di pasti caldi al giorno alle persone, ai migranti bloccati ai domeni. I volontari di Aid Delivery Mission sono stati soggetti a vari tipi di molestie da parte della polizia, minacce di arresto, perquisizioni e altre offese di questo tipo. Si tratta appunto di un fenomeno estremamente preoccupante. È successo anche prima in altri paesi, è successo in Danimarca, ad esempio, dove sono state combinate multe ingenti a rappresentanti della società civile che, che so io, trasportavano migranti dalla campagna a Copenhagen o appunto portavano sulla loro... all'interno del territorio danese davano un passaggio appunto ai migranti. Si tratta di azioni che stanno mandando un... cercano di mandare un messaggio forte alla società civile europea che si è mobilitata in questi mesi, cioè di non aiutare i rifugiati. Queste sono tendenze in corso che riguardano i paesi dei Balcani occidentali e riguardano anche il resto dell'Europa. Per vedere un attimo nel dettaglio la situazione di alcuni dei paesi, comincerei dalla Grecia. sulla Grecia, la Grecia è il paese che in questo momento sta soffrendo maggiormente per la chiusura della rotta, perché la decisione di interrompere il passaggio delle persone nella penisola balcanica ha scaricato sull'autorità di Atene praticamente un numero di persone che viene in questo momento contato intorno alle 50.000 persone che sono in condizioni drammatiche in uno stato di costante incertezza e paura per la deportazione in Turchia. La maggioranza, o comunque una grandissima parte di queste persone sono donne e minori, c'è una differenza nei diversi gruppi per quanto ho notato io ad esempio in questi mesi, ma trovo conforto anche nei dati delle agenzie internazionali, solitamente i siriani sono quasi sempre famiglie, così come gli iracheni, così come gli asidi, i kurdi, sono famiglie con bambini piccoli. Parte diverso il fenomeno dei migranti afghani, pakistani, soprattutto gli afghani sono spesso minori che viaggiano appunto in gruppo. Comunque per tutte queste persone oggi bloccate in Grecia ci sono condizioni di alloggio assolutamente inadeguate, ci sono una trentina di siti provvisori, di centri di raccolta o di ex centri di transito che sono diventati centri di permanenza. La situazione, tra le situazioni più critiche, c'è quella di Domeni, naturalmente, dove ci sono condizioni igienico-sanitarie disastrose, dove nel mese di aprile ci sono già stati scontri tra la polizia e i rifugiati che sono disperati appunto per essere rimasti a un certo punto bloccati lì. I rapporti di Amnesty, ma anche della nostra associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione rispetto alle persone ai Domeni e in generale in Grecia segnalano gravi violazioni dei diritti umani sotto molteplici profili, nel senso che non sono predisposte misure di accoglienza rispettose della dignità dei migranti. Io sono stato ai Domeni in marzo, da allora la situazione è sempre peggiorata, già allora la situazione era molto difficile perché i Domeni era un campo di transito dove le persone potevano stare al massimo un giorno, in alcuni casi due giorni e restavano lì prima di poter procedere verso Gevgelia e verso nord attraversare la Macedonia e la Serbia. Oggi invece è un campo dove senza che ce ne sia siano le condizioni minime ci sono migliaia di persone bloccate da settimane. Inoltre un altro elemento che viene rilevato dalle organizzazioni di protezione dei diritti umani che viene sistematicamente impedito l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale viene ostacolato il ricorso agli strumenti giuridici per il ricongiungimento familiare e non viene garantita naturalmente l'osservanza del principio di non respingimento. Un'altra situazione critica è quella del Pireo nel porto di Atene ci sono tra le 3.000 e le 5.000 ovviamente si tratta di situazioni in evoluzione tra le 3.000 e le 5.000 persone in un campo informale in maniera estremamente precaria aiutati da volontari o da poche organizzazioni umanitarie dalle organizzazioni umanitarie presenti all'ESBOS nel centro di Moria ci sono stati in martedì scorso scontri e rivolte la situazione è talmente difficile grave a Moria che anche le principali organizzazioni non governative inclusi medici senza frontiera hanno deciso di non lavorare più a seguito dell'accordo tra Bruxelles e Ancara e del peggioramento delle condizioni dei migranti in questi centri ci sono campi governativi gestiti dai militari come Di Avatà vicino a Tessaloniki o Neo Cavala Policastro dove a Di Avatà c'è stato un incendio alcune settimane fa in generale in tutti questi campi approntati in fretta per gestire questa situazione le condizioni non sono non sono non ci sono condizioni minime che possono garantire appunto una permanenza dignitosa per le persone in quelli gestiti dai militari in generale ci sono condizioni di accesso estremamente complicate anche per i volontari o per i giornalisti in Grecia sono naturalmente aumentate in maniera esponenziale le domande d'asilo dopo l'accordo tra Unione Europea e Turchia e anche rispetto a questa nuova situazione la Grecia necessiterebbe di aiuto oltre che ovviamente per la gestione di un così grande numero di rifugiati sul proprio territorio anche per la gestione di questa nuova situazione amministrativa cioè per gestire in tempo ragionevole queste richieste il primo paese a nord della Grecia è la Macedonia la Macedonia è stato uno dei paesi in questi mesi più duri per i migranti ora è sigillato non è possibile entrare però dobbiamo tenere presente che la chiusura della rotta balcanica ha lasciato persone bloccate all'interno della rotta perché erano passati prima dai domeni ma non sono riusciti a uscire cioè sono riusciti a entrare ma non sono riusciti a raggiungere Austria e Germania in Macedonia ci sono due campi due grandi campi che ho visitato che sono Tabanovce al nord e Vinograd Gevgelia al sud le informazioni che ho che ci sono 600 persone ancora bloccate a Tabanovce il numero delle persone bloccate in Macedonia è sicuramente superiore però non ho dati dati aggiornati ho trovato in rete alcune proiezioni di organizzazioni locali che appunto lavorano con i migranti in Macedonia si parla di un numero sulle 2000 2000 persone però appunto è difficile avere dati precisi cosa succede con le persone che sono rimaste bloccate all'interno della rotta balcanica queste persone di fronte alla possibilità di essere deportati cercano di continuare facendo ricorso alla criminalità organizzata e ai trafficanti però per quanto riguarda ad esempio la Macedonia devo dire che ci sono numerosissime segnalazioni che ho accolto da colleghi giornalisti e che sono stati e sono stati e sono anche in alcuni casi emerse nello spazio pubblico di migranti minacciati picchiati dalla polizia situazioni di rapimenti da parte della mafia macedone in particolare nel villaggio di Loiane nel nord nel nord est una situazione che è stata portata all'attenzione dei media e dei colleghi di ITV e della BBC una situazione molto grave con migranti torturati marchiati a fuoco dalla mafia macedone trattenuti in questi carceri fino a quando non pagavano un riscatto per poter continuare il loro percorso la macedonia è anche il paese dove decine di migranti sono morti sulle rotaie in particolare in vari tipi di incidenti perché fino all'estate del 2015 non era loro permesso viaggiare su mezzi pubblici per attraversare il paese quindi dovevano potevano viaggiare solo a piedi seguendo le rotaie del treno o in bicicletta e questi lunghissimi trasferimenti a piedi purtroppo sono stati funestati da diversi incidenti in macedonia c'è un centro di detenzione per migranti che è quello di gasibaba a scoppie le cui condizioni sono per dirla in breve sono abominevoli io non ho potuto visitarlo però ho visto le fotografie fatte da migranti e parlato con alcuni attivisti per i diritti umani macedoni la macedonia peraltro è un paese che sta attraversando una grave crisi politica e istituzionale ci sono manifestazioni continue legate ai ripetuti scandali che riguardano il governo conservatore in carica della Femro è un contesto è un contesto estremamente fragile dal punto di vista anche dei rapporti tra minoranza albanese e maggioranza macedone regolata dagli accordi di Ocrid del 2001 che è un appunto posto fine a scontri che erano seguiti alla guerra in Kosovo in macedonia esiste però una società civile estremamente attiva e solidale diverse organizzazioni che aiutano anche da un punto di vista legislativo i rifugiati i migranti mi viene in mente leggi ma ce ne sono molte altre anche ovviamente anche se ovviamente in un contesto di risorse limitate la Bulgaria è invece anche la Bulgaria è un paese è uno dei punti neri per quanto riguarda il transito dei migranti attraverso attraverso i Balcani lo è stata lo è stata in questi in questi mesi e lo è ancora ora ci sono grandissimi problemi di violazione dei diritti umani un comportamento persecutorio in alcuni casi crudele nei confronti dei migranti che sembra essere parte di una strategia deliberata da parte dell'autorità per dare il messaggio che qui i rifugiati non sono ben accetti ci sono stati migranti uccisi un caso un caso accertato a me è capitato di raccogliere altre testimonianze che però non ho potuto verificare soprattutto da ragazzi afghani che che entravano in Serbia in condizioni estremamente precarie ci sono state molte testimonianze di migranti rinchiusi in luoghi di detenzione e purtroppo in Bulgaria oggi esiste un fenomeno di migranti vengono cacciati come animali da gruppi auto-organizzati di cittadini di estrema destra come l'organizzazione per la protezione dei cittadini bulgari la resistenza nazionale bulgara insomma altri gruppi di questo tipo in un contesto di sostanziale compiacenza delle autorità che non interrompono le attività appunto di questi di questi gruppi di autoproclamati cittadini difensori dei confini della patria che cacciano i migranti al confine turco-bulgaro e bisogna dire le loro azioni sono state anche in qualche modo glorificate nello spazio pubblico dai mezzi di informazione appunto senza relazioni significative da parte delle autorità la Bulgaria è un paese dell'Unione Europea resta un paese molto pericoloso per i migranti in Serbia la situazione è in parte diversa dopo difficoltà iniziali sono state prese di posizione chiare e ripetute da parte del premier Vucic che hanno contribuito a rendere meno difficoltoso il transito delle persone attraverso il territorio oggi naturalmente è tutto cambiato perché il paese è chiuso e anche qui c'è una caccia ai migranti che cercano di attraversare le montagne al confine con la Bulgaria o di entrare dalla Macedonia una caccia non da parte dei cittadini le autorità la polizia cerca di impedire l'ingresso nel paese e di arrestare coloro che trova nelle zone limitrofe appunto al confine anche in Serbia ci sono persone imbottigliate nei campi quelle che sono rimaste bloccate all'interno della rotta balcanica alcune centinaia circa 200 a Prescevo nel sud probabilmente altrettanti alle zone di transito di Orgos e Kelebi al confine con Ungheria e qualche decina al confine con la Croazia a Scid ad Ascerzi a Belgrado hanno ricominciato ad arrivare persone nei campi vicino alla stazione degli autobus dove ci sono diverse organizzazioni di volontari serbi che aiutano anche qui però la situazione sta cambiando e mercoledì scorso le autorità hanno smantellato con le ruspe il centro di accoglienza autogestito MixaListe che distribuiva aiuti umanitari appunto vicino alla stazione degli autobus in generale anche qui ovviamente è molto concreto il rischio trafficking per le persone che sono rimaste imbottigliate e anche qui sono in crescita le domande di asilo per quanto riguarda la Croazia anche in Croazia c'è stata una prima reazione di chiusura con scaramucce di frontiera una breve guerra commerciale tra Zagabra e Belgrado al Valico di Scid poi anche la Croazia è aperto al transito e i migranti venivano trasferiti prima a Opatovac nell'est e poi al campo di Slavonski Brod che è stato chiuso tre settimane fa in Croazia pochissime persone hanno chiesto asilo qualche centinaia credo intorno alle 200 persone però il dato più recente che ho è che sono rimaste alcune decine di persone il campo di Slavonski Brod è stato chiuso e sono rimaste solo alcune decine di persone che sono state trasferite in un centro per richiedenti asilo a Zagabria anche in Croazia esiste una società civile molto attiva cito ad esempio Io Sirius che è un'organizzazione con una pagina Facebook molto 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 vitale anche dal punto di vista dell'informazione generale sulla rotta balcanica e l'ex rotta balcanica come diceva in apertura in Croazia è in discussione una nuova legge sugli stranieri che introduce appunto anche in questo paese i cosiddetti che mira ad introdurre anche in questo paese i cosiddetti reati di solidarietà Io ho concluso il mio tempo spero di aver dato un contributo utile e buon lavoro grazie a tutti